Alle dimissioni di lunedì del sindaco Massimo Bordin si sono aggiunte in queste ore quelle dei consiglieri di maggioranza del comune di Montegrotto Terme. Non hanno atteso i 20 giorni previsti per legge dal momento delle dimissioni al decadimento della giunta del consiglio. Le hanno sottoscritte in blocco provocando in questo modo lo scioglimento immediato del consiglio comunale. L'unico a non andarsene ma che comunque decade è il vice sindaco Walter Belluco. Tutti gli altri nove esponenti della maggioranza targata Bordin hanno deciso di uscire già di scena. Insomma il terremoto Tangenti continua a scuotere il territorio termale e ovviamente il suo equilibrio politico. E adesso che alle dimissioni del sindaco Bordin si sono aggiunte quelle dei consiglieri il prefetto nominerà quanto prima il commissario che traghetterà il comune fino alle prossime elezioni previste con ogni probabilità per maggio 2016. Intanto sotto il profilo delle indagini l'assessore Ivano Marco Longo è stato nuovamente sentito dal PM incaricato dell'inchiesta. Tre ore di interrogatorio durante le quali l'esponente della giunta Bordin avrebbe raccontato nuovi particolari della tangentopoli termale. Gli atti sono stati secretati.